Ciao! Sabato 29 giugno e domenica 30 giugno ti aspetto ad Armonia Mundi a Roma con un mio seminario intitolato Fiamme Gemelle e Fiamma Madre. In modo particolare parleremo di quello che siamo chiamati a fare, di lasciare andare le nostre relazioni di terza dimensione e di spostarci totalmente nelle unioni di quinta dimensione perché siamo chiamati a restare sul pianeta con una vibrazione più elevata aiutando il pianeta a creare la pace, l'ascensione e nello stato risvegliato di quinta dimensione l'esperienza della vostra anima e le sue scelte saranno solo guidate nell'allineare i vostri aspetti fisici con quelli superiori. Sappi che anche tu sei in molti parti, alcune delle quali sono al di là del velo e alcune su questo pianeta e a volte possiamo anche incontrarci. Quello che noi chiamiamo anima umana in realtà non è per niente umana. Lo sai che le anime sul pianeta non sono conteggiabili, non sono singole? Tante tante domande e tante 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 risposte, tipo le domande. E se la condivisione animica fosse semplicemente qualcosa per cui voi incontrate una parte di voi in un altro essere umano? Chi sono i walk-in? Un'anima che si unisce con un'altra in una condivisione animica come Dio con Dio e voi con voi. Che dite di questo? Le anime viaggiano in gruppo? Un'anima può essere incarnata in due persone viventi o più? Chi è l'anima compagna? Che differenza c'è tra l'anima compagna e la fiamma gemella? Che rapporto può avere la fiamma gemella con i nostri chakra? Esiste più di una fiamma gemella? Esistono fiamme gemelle per ogni chakra? Potremmo dire che le fiamme gemelle sono insieme per compiere qualcosa che da sole non potrebbero fare? Esiste un corpus, un insieme di anime gemelle tutte sorelle appartenenti alla stessa famiglia animica? Esistono anime innumerevoli, complementari maschili e anche femminili all'interno dell'essenza energetica dello stesso corpo animico? La fiamma gemella costituisce la più grande sfida evolutiva della vostra vita? Ognuno di noi emette innumerevoli frequenze vibratorie. Quanti sono gli aspetti della sua personalità e quanti sono i centri di energia normalmente attivi, chiamati chakra? Potremmo quindi dire che esistono 13 tipi di vibrazioni specifiche che rispecchiano la polarizzazione dei nostri chakra? Esiste una grande fiamma gemella? La migliore fiamma gemella? Sì, esiste e si chiama fiamma madre ed è l'unione tra noi e l'amore che ci tiene sempre per mano. È il nostro angelo, arcangelo, il nostro guru, i maestri ascesi, gli esseri di luce, qualsiasi forma di immenso amore che c'è sempre vicino. Tipo per me, Paramahansa Yogananda, Sri Yuktesh, Lairimashaya, Babaji, Krishna, Gesù. Mi sento... Quindi scoprire chi ha la fiamma madre, rincontrare la fiamma madre è un grande dono ed è molto molto importante per noi e può veramente cambiare la nostra vita. Vi aspetto al seminario, ripeto, il 29 giugno al 30 giugno ad Armonia Mundi. È molto 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 importante prenotare, comunicare con loro, fare sapere che venite perché bisogna fare l'iscrizione e si può fare online, chiamate e tutto quanto. Grazie ancora e quindi eccoci qui. Sarà un seminario che aiuterà veramente a comprendere chi sono le fiamme gemelle intorno a voi e a scoprire segreti che così non sono così facili da conoscere, specialmente sui libri. Tante belle cose e tanta pace e armonia. Ciao ancora.